A Casa Pesenna anche quest'anno si festeggia il Natale con una bella iniziativa, il Presepe Vivente, un momento di riflessione per tutta la comunità parrocchiale. Il secondo anno che festeggiamo, viviamo le giornate del Natale con l'iniziativa del Presepe Vivente, che è un'attività molto sentita nonostante la difficoltà di portarla avanti, di organizzarci il tempo di tantissime persone che deve essere dedicato per questa iniziativa. Oggi in maniera particolare viviamo una giornata molto felice perché è la Domenica della Sacra Famiglia. C'è stato anche in chiesa un momento di preghiera in cui abbiamo radunato le famiglie di quest'anno, gli sposi di quest'anno, quelli dell'anno prossimo, poi siamo venuti qui nel Presepe per la visita al Presepe. Un grande segno questo. Come ricordava il Papa stamattina, la famiglia di Nazareth è una famiglia in cammino, non è una famiglia immobile statica. Anche noi vogliamo essere una comunità in cammino, delle famiglie in cammino, una cittadina in cammino, una parrocchia in cammino e queste iniziative sono bei segni di una comunità che si muove, che cresce e che cerca la coesione, i valori veri. Nella sua missione pastorale lancia sempre però dei messaggi anche di sfondo sociale. Anche questo è un momento per dire ai cattolici, ai cristiani, alla sua comunità che debbano fare di più anche loro per cambiare le cose. La cosa bella, il messaggio che questa sera non dico io, ma dicono le tantissime persone che sono qui, in primo luogo i volontari che lavorano, poi anche tutti i nostri concittadini, è la bellezza di lavorare per bene degli altri senza interessi privati. Se fosse questo un messaggio che riusciamo a far passare a tutti, che entra nel mondo delle istituzioni, della scuola, delle associazioni, del volontariato, è una cosa già meravigliosa. Saper lavorare tutti per il bene comune e senza interessi personali, è una cosa bellissima questo.